mappe mentali o mappe concettuali vediamo quali sono le caratteristiche di ciascuno di questi due metodi così vicini nel nome ma così diversi per alcuni aspetti mappe concettuali chi fu il loro sviluppatore e divulgatore joseph donald novak erano gli anni 70 e lui stava cercando strumenti per aiutare i bambini nel loro processo di apprendimento le mappe concettuali rappresentarono un grande salto nel mondo dell'apprendimento perché la difficoltà di sempre era quella di trattenere le informazioni molte persone ancora oggi cercano di ricordare i concetti così come sono scritti e questo penalizza tantissimo l'apprendimento perché quando uno tenta di ricordare le cose parola per parola sta facendo uno sforzo mnemonico incredibile ma soprattutto sta perdendo capacità critica e ragionativa nei confronti del testo di fatto non sta ragionando prenderà un buon voto magari all'interrogazione se il professore non dovesse andare tanto a fondo ma dopo non ha alcuna sostanza non c'è contenuto e soprattutto non potrà consolidare quelle informazioni sul lungo termine perché di fatto non le ha comprese non le ha interiorizzate le mappe concettuali hanno come caratteristica quella di avere i concetti chiave rappresentati attraverso delle frasi molto brevi collegati tra loro da delle frecce delle figure geometriche nelle quali questi concetti sono collocati a volte la figura geometrica cambia a seconda del concetto che rappresenta le frecce collegano tra di loro i vari concetti non hanno immagini e le frecce stabiliscono delle relazioni tra tutti i vari argomenti tendono a riempire tutto quanto il foglio dal momento che un'immagine vale più di mille parole qui puoi capire che cosa si intende per mappa concettuale le mappe mentali che cosa sono e chi fu il suo sviluppatore ideatore divulgatore tony busan fu la persona che le sviluppò partendo in realtà anche dalle mappe concettuali e dagli appunti di leonardo si rendeva conto che leonardo inseriva delle immagini sempre vicino alle parole chiave successivamente ci si rese conto che la nostra mente ragiona per immagini quindi la differenza che c'è tra le mappe mentali e le mappe concettuali è proprio nella struttura la mappa mentale ha nel centro l'argomento principale e ha una struttura radiale quindi dal centro partono dei rami come se fossero dei raggi e sopra questi rami ci saranno solo delle parole chiave su queste parole chiave se la finalità della mappa mentale è quella di ricordare i concetti sul lungo termine andremo ad inserire delle immagini queste immagini possono essere creative strane bizzarre possono essere immagini che non rappresentano il concetto ma in qualche modo lo rievocano e la mappa mentale occupa lo spazio di una clessidra coricata per par condicio facciamo vedere anche un'immagine di quella che è una mappa mentale quali sono le differenze la mappa concettuale aiuta a comprendere i concetti la mappa mentale non solo aiuta a comprendere i concetti ma stimola anche la memorizzazione e soprattutto la gerarchia delle informazioni molte persone che imparano a fare le mappe concettuali dopo prendono il testo e ne cambiano la forma questa cosa si può fare anche con le mappe mentali ovviamente perché uno può prendere un riassunto e metterlo sotto forma di mappa mentale con i rami carichi di informazioni la cosa più importante è il linguaggio che viene utilizzato che sulla mappa mentale è il linguaggio delle immagini dei colori delle associazioni di idee questo è utilizzato anche nelle mappe concettuali di fatti ci sono sempre delle frecce di collegamento per stabilire le relazioni la mappa mentale aiuta nella memorizzazione perché andiamo a stimolare quello che è la memoria emotiva e creativa sul lungo termine la mappa concettuale è più razionale e quindi sfrutta di più una memoria ripetitiva sul breve termine io personalmente chiaramente prediligo le mappe mentali è inutile nascondersi dietro dietro un dito e però in questo modo attraverso questo video ci tenevo a fare chiarezza per un motivo molto semplice perché molte volte le persone pensano di fare le mappe mentali e in realtà stanno creando delle mappe concettuali qualcuno fa degli schemi e li chiama mappe mentali dice ah io faccio le mappe mentali e in realtà sono delle mappe concettuali le mappe concettuali sono molto più conosciute nel senso che alla fine dei capitoli nei testi scolastici molte volte c'è una mappa concettuale non ancora una mappa mentale qualche libro inizia ad avere le mappe mentali però sono molto più conosciute e divulgate le mappe concettuali mi auguro che adesso sia chiara la differenza e che tu possa scegliere che cosa fare se mappe mentali o mappe concettuali ma che chiami gli strumenti con il nome corretto se il video ti è stato utile ti suggerisco di iscriverti al canale e poi di condividerlo con persone che pensano di costruire mappe mentali ma invece stanno costruendo mappe concettuali al prossimo video grazie a tutti